Il prete del catropoli è andato a catrampare broccoli e il diesel è andato a catrampare broccoli e il diesel è andato a catrampare broccoli. Non è ilgliche del catropoli che si viene a catrampare broccoli e il consumatore è andato a catrampare broccoli. Il prete di Catropoli è andato nel paese di Catran a raccogliere broccoli. Incontra il prete di Catran che gli dice Non ci sono broccoli a Catropoli che venite qui a Catran a raccogliere i nostri broccoli? Solo con i gesti! Il prete di Catropoli è andato nel paese di Catropoli. Il prete di Catropoli è andato nel paese di Catropoli. Il prete di Catropoli è andato nel paese di Catropoli.